Sono Francesca, ho 45 anni, abito a Samaratti in provincia di Varese e la ricetta che voglio presentarvi sono gnocchi di patate con grana padano e cannella. Grana padano, stagionato 20 mesi, cipollotto fresco, burro, cannella, zucchero. Facciamo bollire la pentola d'acqua salata, cipollotto fresco tagliato sottile e sottile. Due cucchiai di zucchero e un pizzico di cannella. Il composto risulterà abbrunito. E adesso mettiamo una bella spolverata. Voi non potete sentire il profumo, ma è buonissimo. Il grana padano si è sciolto e sciogliendo si amalgama tutti gli ingredienti. Buon appetito!